Una rilettura moderna, ironica, simpatica di tre capolavori per ragazzi Pinocchio, Cappuccetto Rosso e Peter Pan una rilettura portata in scena al Teatro Savoia da avvocati che in realtà sono veri e propri attori quelli dell'Associazione Senza Appello, esilaranti, molto convincenti nei panni dei protagonisti delle tre favole un'iniziativa frizzante quella del processo alle favole per avvicinare sempre di più i ragazzi delle scuole ai temi della legalità che spesso studiano in aula Cosa potrebbe succedere se tutto quello che viene raccontato in queste favole succedesse oggi e quindi la mamma di Cappuccetto Rosso che la manda nel bosco contro i vari imprevisti oppure il cacciatore che si arroga il diritto di sparare solo perché è coinvolto o il Peter Pan che è un eroe, potrebbe essere un antieroe perché non si assume responsabilità svolazza senza meta, ci sono parsi temi da affrontare per coinvolgere i ragazzi e farli pensare con la loro testa Storie senza tempo nelle quali i protagonisti diventano parti offese o imputati accusati da PM singolari o difesi da strambi avvocati con giudici sui generis in una rutilante messa in scena Ad esempio ci sono il gatto e la volpe, moglie e marito accusati da Pinocchio di truffa Una volpe che cerca di attenuare le varie situazioni non propriamente consone che mette in atto il proprio marito Ito, ito, ito Tra gli attori anche ragazzini come Giorgia la figlia dell'avvocato Fabio Albino presidente di Senza Appello Calata nella parte di Cappuccetto Rosso Devo dire che il mio personaggio è stato fatto su misura perché mi rispecchia quindi non è che mi sono calata, sul palco sono io che recito, non un Cappuccetto Rosso Poi un Peter Pan fuori dagli schemi, tre atti, ognuno con un tema attuale tra le righe delle storie rilette, un tema che ha a che fare con giustizia e legalità un modo anche per i ragazzi di imparare meglio come funziona un processo argomenti che studiano a scuola La regia è affidata a Pino Venditti A inaugurare lo spettacolo a Savoia di Campobasso Roberta Donofrio, giudice del Tribunale del capoluogo con il vocabolario della giustizia in mano il codice e la toga sul braccio Ho deciso questa volta di venire a parlare ai ragazzi portando proprio gli attrezzi del mestiere quindi io non vado mai in udienza senza toga e senza codice e forse sono dei simboli che rappresentano dei contenuti un'occasione lietissima perché i Senza Appello sposano un progetto di educazione diretta della legalità e di trasmissione dei valori alle giovani generazioni e per noi magistrati questa mission la condividiamo a pieno e tentiamo di fornire il nostro piccolo anche il nostro contributo